Va bene, buongiorno a tutti. Ho deciso di fare una specie di corso introduttivo per il self-hosting, più che altro perché se mi metto a parlare di tutte le varie opzioni che ci sono, si faceva un po' sera, quindi ho deciso di tagliare leggermente. Però per quelli che non sanno che cosa è il self-hosting oppure non ne hanno mai sentito parlare, ecco, che cos'è? Che cos'è? Beh, è la pratica di ostare appunto di tenere dei servizi nella propria rete locale. Basta anche la rete locale, infatti qua ho un esempio di una rete SaaS, quindi software as a service normale, come le classiche di Google, e invece una interna per esempio di un'organizzazione che ha tutta l'infrastruttura server che è in locale alla fine. Questa infrastruttura si può anche poi aprire e rendere pubblica. Ci sono comunque dei pro e contro di questa cosa. I pro sono comunque che hai pieno controllo di tutta l'infrastruttura, sai quello che stai facendo, forse, e comunque comprendi, riesci a capire anche come funzionano infrastrutture serie e riesci ad avere il tuo server bellissimo che ti può fare qualsiasi cosa. Ovviamente non si deve pagare, perché è la tua macchina, è il tuo computer in casa tua, e in più si può gestire tutta la parte di sicurezza, tutta la parte di rete, che è molto interessante di solito ed è anche molto interessante studiarla. Uno dei più grossi contro è che se non ho un computer per fare un server, e là c'è comunque il costo iniziale, è uno dei contro del self-hosting, che comunque serve una macchina che ti servi il servizio che vuoi avere. In più, se è un servizio che ha bisogno comunque di aggiornamenti continui o è qualcosa di beta, qualcosa in beta, oppure comunque servono degli aggiornamenti di sicurezza molto spesso, ecco, quello è anche comunque una spesa, perché devi stare là almeno una volta alla settimana a controllare, ok, funziona tutto ancora? Di solito funziona, di solito per esperienza posso dire che se si fa bene funziona, quindi non c'è questo problema almeno. Da qua in poi, quali sono i primi passi? Bisogna scegliere l'hardware, scegliere un computer, un qualcosa, dopo ne parlo basta anche pochissimo, scegliere un sistema operativo, se no il computer che cosa fa? Mi sembra leggermente logico, e anche come gestire i tuoi servizi. Come gestire i servizi, poi guida anche la scelta del sistema operativo. Per esempio, per la virtualizzazione si utilizza Proxmox, di solito, di cui parlerò dopo, invece, se si vuole fare un server solo con Docker, si può anche tenere Debian, e tenerlo là solido e fare tutta la gestione con Docker. Parlando di hardware, invece, tornando al discorso precedente, che cosa serve? Allora, una CPU, di qualsiasi tipo. Esempio stupidissimo, a casa ho un server che gira su un AMD A9 da portatile, con due core, e non so nemmeno se arriva ai 4 GHz, no, penso tre qualcosa massimo, quindi qualcosa di veramente base. Si può letteralmente tirare fuori una scheda madre, come ho mostrato anche qua, e montarla su un pezzo di cartone, un pezzo di plastica, far modo che si accenda, almeno, e si può utilizzare benissimo quello. Il discorso è diverso per memoria RAM, comunque, perché se ci vuoi far girare qualcosa sopra, sempre è meglio avere un po' più di memoria, che non si sa mai se, per esempio, ti viene voglia di fare qualche esperimento o altro, almeno hai le risorse. Per i sistemi operativi, invece, penso che sia abbastanza esplicativa la slide, si possono utilizzare sistemi operativi Unix, comunque Linux, basati su Debian, basati su qualsiasi cosa, FreeBSD anche, si può utilizzare quello che si vuole. Se sei masochista, usi Windows anche, però di base puoi fare quello che vuoi. Anche Windows, per esempio, se hai tante persone in casa e vuoi gestirti gli utenti con un solo computer, ti fa il serverino Windows per la gestione degli utenti, quindi anche là ci sono sempre varie opzioni. Ecco, ci sono sempre varie opzioni per tutto e bisogna decidere su quello che va meglio per te, alla fine. Per gestire i servizi, visto che abbiamo l'hardware ora, forse abbiamo scelto il software, però come gestiamo il tutto? Ci sono varie opzioni, di solito si possono utilizzare varie macchine virtuali e farti bei servizietti in varie macchine virtuali divisi, solidi. Questo di solito si chiama microservice. Se hai un servizio o in una macchina virtuale o anche in un container Linux, o su Docker, qualcosa di piccolo, che comunica con altri server che sono sempre nella stessa infrastruttura. Quindi, se per esempio hai, non lo so, la jail, oppure l'immagine Docker, oppure la macchina virtuale che ti fa da database, e vedi che c'è un errore sul database, sai che il problema è con quella macchina o con quello. Oppure se non ti funziona nulla e controlli, ah, avevo il web server spento. Qualcosa mi dice che era quello il problema? Mi è capitato una volta, mi è capitato ed è... mi sono sentito molto stupido. Una cosa molto interessante, visto che l'ho anche aggiunto, sono le jail di FreeBSD, perché sono fatte apposta per essere solide. Quindi il software che ci metti là sopra ci resta. Ci resta di solito. Non ho molta esperienza con Docker, ma ho abbastanza esperienza con le macchine virtuali, anche, e se si gestiscono bene, si riesce a tenere comunque un'infrastruttura abbastanza complessa, anche con una certa facilità. Parlando sempre di macchine virtuali, il sistema operativo, comunque il pezzo di software più utilizzato per gestire le macchine virtuali, è Proxmox. si può utilizzare anche VMware, per esempio, però quello è a pagamento e sono povero. Proxmox VE è un ISO proprio scaricabile, se non ricordo male è basato su Debian con il kernel custom loro per gestire bene tutta la virtualizzazione e ho lasciato l'immagine che è abbastanza esplicativa a un'interfaccia della madonna. Questo è il mio unico commento all'interfaccia e rimarrà tale. E permette di gestire, cioè, permette di gestirsi tutte le macchine virtuali, anche con per esempio ZFS, per avere vari dischi, ridondanza, evitare di perdere cose. Per esempio, hai una vagonata di foto, oppure video vecchissimi che vuoi masterizzare e tenere da qualche parte, ecco, sarebbe meglio fare un ride con ZFS e tenerli belli soli di là, che almeno se fallisce un disco non hai perso tutte le foto della tua infanzia, oppure, non lo so, la gita al mare, non lo so, il matrimonio, posso continuare per giorni. Un altro sistema per fare microservice management o comunque per tenersi microservizi è usare Docker. Prendi un sistema operativo Linux classicissimo, esempio Debian, che è abbastanza solido. Ci metti, se hai già un'interfaccia grafica, puoi utilizzare Docker Desktop Dashboard, che è un'interfaccia GUI per gestire container. Se sei una persona alle prime armi è anche semplice perché ti puoi installare Debian premendo invio su qualsiasi cosa, c'è già il desktop environment nome di default e se sei una persona alle prime armi non ti spaventi con il terminale, è già dal primo step, ok, devo imparare cose nuove. Ecco, quello di solito per le persone che proprio non hanno mai sentito parlare di queste cose è comodo, comodissimo. Ci sono anche altre opzioni, per esempio Portrainer o Rancher. Rancher più verso Kubernetes, verso cose leggermente più da infrastruttura di un'azienda grossa che deve gestire centinaia di robe. Portrainer è una buona soluzione, comunque hai tutta la gestione delle immagini Docker e puoi gestirti i tuoi bei servizi in modo abbastanza pulito. Ovviamente queste sono delle opzioni, però non sono tutte le opzioni. Infatti, per esempio, c'è uno host che è sempre un sistemino ti scarichi la ISO fatto per fare self-hosting. È molto interessante. vediamo se si apre o se si decide ad aprirsi. Ecco, è abbastanza interessante più che altro perché ha tutti i moduli per tutta la parte di management e ha tutti i moduli quasi per farsi i servizi. Quindi già setappati per alcune cose sono fatti abbastanza bene, mi dicono anche, quindi io per esperienza non l'ho mai usato, però mi è stato consigliato. Per, invece, altre opzioni possibili si può sempre affittare un server da qualche parte oppure puoi chiedere anche ad un amico senti potresti ostarmi questa cosa. Ci sono comunque varie opzioni, quindi il limite è l'immaginazione, diciamo, il limite è l'immaginazione. Ora che più o meno abbiamo capito, forse, come scegliere un computer per fare server, scegliere come gestire il tutto, scegliere il sistema, beh, che cosa ci mettiamo dentro? Qua ho giusto una piccolissima lista, potrei andare avanti all'infinito, avrò una cinquantina di servizi che utilizzo, però questi sono abbastanza utili, onestamente. Voltwarden, penso che lo conoscano in molti, fa da password manager, l'app di Bitwarden è riscritta in Rust, se non sbaglio. Per esperienza personale è stabile, funziona bene e comunque è sul mio hardware, che è questo il concetto di fondo. Io le mie password non le voglio dare a qualcuno, soprattutto se è una lista fatta anche abbastanza bene di tutte le mie password, scusate. PyHall è un software abbastanza utile invece per leggere manga, perché non si sa, non so perché, però il governo italiano ce l'ha con un sito particolare che si chiama mangadex.org, fatto per leggere varie serie. Uno dei metodi più semplici per avere accesso a questo sito è utilizzare PyHall, perché alla fine è un DNS interno che poi passa tutte le richieste con quella rete, funziona da buco nero per le pubblicità, è utile anche per quello. Se per esempio si va spesso su siti abbastanza strani oppure siti pieni di pubblicità, strani del tipo, non lo so, vediamo qualche esempio. Qualche grappino in più la sera, ti viene in mente la cosa stupida, cerchi magari un articolo, non lo so, come lavare i piedi, non lo so. Ecco, Salvatore Aranzulla, vedi il muro di pubblicità, il muro di pubblicità e forse l'articolo in mezzo. Ecco, quello è abbastanza fastidioso, quindi è utile per bypassare restrizioni a livello di DNS per entrare in siti che vuoi tu, può bloccare pubblicità, può anche fare comunque, visto che è un DNS, alla fine può farti da DNS in casa, quindi puoi gestirti tutta la rete locale con un tuo dominio, magari anche campato in aria o comunque qualcosettina di sì, qualcosettina di abbastanza semplice per avere ordine nella rete. Ecco. Grafana, beh, come posso metterla questa? se hai tante cose ti piacerebbe vedere che cosa sta succedendo e monitorare comunque tutti i tuoi servizi. Grafana permette di farti bei grafici fantastici di tutta la tua infrastruttura con varie informazioni. Cavita è il mio server per la lettura, non lo conosce quasi nessuno, se vi piace leggere è comodissimo, mi dà un po' fastidio che è fatto in C Sharp, quindi non posso fare la Gelfree BSD, però funziona benissimo, Plex penso che lo conoscano un po' tutti, potevo mettere Jellyfin, però Plex mi funziona con la Smart TV, quindi anche la Decisioni ho la Smart TV, quindi uso Plex che è già compatibile, Uptime Kuma è per vedere appunto l'uptime della tua infrastruttura, WireGuard poi la usi come VPN e così puoi avere anche l'accesso alla tua rete locale aprendo un solo indirizzo dal router. Ora, andando avanti velocemente perché sto mangiando tempo al talk dopo, sono stato abbastanza fortunato da trovare un'immagine di più o meno come gestisco la mia rete, cioè c'è il modem e poi passa tutto attraverso un reverse proxy, Nginx, e in questo modo non utilizzo le dir come stanno usando qua, ma utilizzo sotto domini e ho tutti i miei servizi con i sottodomini puliti che si possono gestire in tranquillità. Come ho fatto a fare sta roba? Per chi non ha mai toccato con un web server o altro, io ho usato Nginx, si può usare quello che si vuole, anche CAD di Apache, ce ne sono vari anche di software che possono farti da reverse proxy, questo è un esempio della mia configurazione di Nginx, cioè gli dico questo è il sottodominio che voglio, gli dico senti quell'indirizzo è l'indirizzo interno della macchina dove ho quel servizio, usalo, e poi ho i certificati fatti con CertBot per avere l'HTTPS così è tutto pulito e ho pure la connessione cifrata sicura. Ora che abbiamo tutta l'infrastruttura beh come facciamo ad accederci? Un'opzione è usare una VPN apri una sola porta e non ti interessa nulla di tutto il resto del mondo. Un'altra opzione è usare Cloudflare o un altro servizio come DNS per esempio c'è anche freedns dotafraid dot org che può fare la stessa cosa di Cloudflare si possono utilizzare anche i tunnel Cloudflare che funzionano come Wireguard infatti sono basati su Wireguard e fanno tunnel proprio per la tua connessione si può utilizzare anche ngrock comunque ci sono vari servizi e il limite è l'immaginazione alla fine la cosa più importante di tutti di tutte quando si fa self hosting è ovviamente divertirsi perché alla fine se stai facendo qualcosa però ti girano le balle non è più non è più così tanto importante da fare secondo me soprattutto se lo fai per hobby allora siamo arrivati alla conclusione di questo talk allora siamo arrivati alla conclusione di questo talk c'è tempo per due domande velocissime una domanda se avete ci sono giuste due domande quindi Andrea si velocissima non hai citato la posta perché io avrei un server di posta ma ho un piccolissimo problema visto che la wind non dà indirizzi fissi a chi non ha partita IVA avendo gli indirizzi suoi dinamici sono tutti blacklistati quindi smtp ti dice no col cat aggiungo una velocissima e quindi come vedresti fare un tunnel SSH verso un VPS ecco una delle opzioni che mi hanno raccomandato in molti è di fare tunnel con Cloudflare oppure fare comunque un tunnel con una VPN e utilizzare un indirizzo IP che non sia blacklistato è un'opzione comunque io non la sto utilizzando più che altro perché mi manca poco perché scada il contratto a sto punto quando lo rifaccio gli dico sentitemi datemi l'indirizzo IP fisso seconda domanda la persona che passa il post hai già affrontato il problema di avere una replica dei tuoi dati offsite oppure no? di quello avrei potuto parlarci se avessi avuto tutta la giornata perché anche là c'è tutta una religione anche per alcuni infatti c'è la regola del 3-2-1 di solito per esempio si può utilizzare ZFS solo per avere un po' di ridondanza poi avere i vari server anche outside oppure per esempio puoi chiedere sempre ad un amico senti questo è un server attaccalo alla rete dimenticatene fammi un favore per favore grazie allora ringraziamo Samuele per aver condiviso allora c'è un'ultima domanda al volissimo ok intanto volevo farti i complimenti perché bisogna spingere il self hosting visto che soprattutto per chi ha esperienza di tenere la posta in casa Google e Outlook fanno quello che vogliono non so se ti è mai capitato che non ti arriva neanche l'errore bloccano la tua posta così a calzo questo è il mio caso in verità perché diventa un buco nero cioè Google vede ok quell'IP è blacklistato bene non invierò mai nulla e vabbè a sto punto come ho detto aspetto di cambiare contratto e metterò un indirizzo IP fisso decente spero utilizzabile ecco bene bene allora era veramente l'ultima domanda poi se volete avete Samuele qui che gira quindi per fare ulteriori domande o comunque se avete curiosità ringraziamo Samuele per aver condiviso la sua conoscenza e l'esperienza qui all'ESC un grande applauso grazie a tutti